Ragazzi esattamente 782 giorni fa, ben due anni fa, guardavamo assieme l'evento finale di Fortnite capitolo 1 Eravamo tutti quanti connessi a guardare lo schermo per vedere la nostra carissima isola, la più amata, venire distrutta Siamo rimasti ore a guardare un buco nero e poi tutto ad un tratto è venuto fuori Fortnite capitolo 2 Io veramente me lo ricordo come se fosse ieri, però ragazzi ieri non era, ve l'ho detto ormai sono passati 782 giorni E ormai anche il suo tempo è passato, perché oggi ragazzi sarà l'ultimo giorno di Fortnite capitolo 2 Ho i brividi addosso solo a pensarci, ma sì, è veramente finita Mi sembra giusto ragazzi inaugurare però quest'ultimo video almeno con un'ultimissima vittoria assieme Devo vincere l'ultimo game che farò su Fortnite capitolo 2 Cavolo ragazzi non ci posso credere, guarderemo questi menu ancora per poco Tra un giorno infatti finirà Fortnite capitolo 2 E non a caso vi ricordo che stasera alle 21.30 guarderemo l'evento finale di Fortnite capitolo 2 sul mio canale Twitch Vi lascio in descrizione il link o basta che cercate su Twitch for the gamer, tanto mi trovate E quindi eccola qui ragazzi, la nostra mappa pre-evento Sono successe così tante cose, questi che sono immagino i robot, hanno rimesso i robot Io mi sono perso veramente un botto di cose che sono successe qui su Fortnite E wow, non ci posso credere che Fortnite 2 stia finendo È durato, almeno personalmente parlando, molto meno Veramente molto meno del primissimo Fortnite di Fortnite capitolo 1 E wow, mi è difficile accettare che stia veramente finendo Tra l'altro la vaga impressione, però probabilmente sbagliata E forse perché non ci gioco da un po', che l'inquadratura sia diversa, però Ripeto, credo che sia una mia impressione Uh, che lutto, mamma mia Ehm, ok Specialmente il lanciarazzi in questa zona possiamo fare a Faville Voglio fare una kill con il lanciarazzi, vi prego Fatemela fare Qua a The Paramade non c'è nessuno Cambiamo zona, dai Cavolo ragazzi, è tutto così nostalgico però Una cosa la so per certo, sicuramente non sono affezionato a Fortnite capitolo 2 Come lo sono stato e lo sono tuttora a Fortnite capitolo 1 Però fa un certo effetto dire Nuovo capitolo di Fortnite Cioè sta per uscire veramente Fortnite capitolo 3 E tra un giorno uscirà O meglio, per voi che state vedendo questo video Teoricamente uscirà tra poche ore Alle 10 di stasera E vi ricordo appunto che saremo live sul mio canale Twitch Circa dalle 9 e mezza Dalle 21 e 30 Quindi per guardare l'evento assieme Cavolo ragazzi, quanti ricordi Oh, un tizio Ah, è un bot? La vaga impressione di sì Però ha dei kunai Uh, li si stanno fightando Ah, peccato Che non ho quella Non ho il lanciarazzi Altrimenti questo tizio lo farei cadere una bomba Esplodono i kunai Ah, ok, finalmente Ma tra l'altro stanno aggrappati anche là No, niente ad ora Mi ha andato nelle spalle Non ci posso credere Cavolo, ho due tizi addosso Mamma mia Non so neanche io come l'ho eliminato sto tizio Tenevo il loot che faceva paura Mamma mia Fatelo È stato proprio unexpected per lui Non aveva idea che io fosse lì Cavolo, quello era un tizio Pensavo fosse un pesce Invece un bot Mamma mia, che panico All'inizio, dato che faceva sempre lo stesso movimento Pensavo fosse un pesce Che magari si voleva far nuotare Invece no Cavolo Lazy Lake è stata una delle città Che non è mai cambiata Dall'inizio di Fortnite capitolo 2 O sbaglio? Sì, avrà avuto dei cambiamenti Ma veramente piccoli Cioè, è stata quella che è sopravvissuta Insieme ad altre poche città Che cosa figga Cavolo, sta arrivando Sta arrivando un mecca No, 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 no No, no Io non lo so più gestire Una volta lo sapevo gestire Ora non so manco come l'hanno cambiato Aiuto No, lasciatemi stare Adesso devo nascondermi No 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 Lasciami stare Lasciami stare Vai vai salta 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 Divertiti Cavolo della gente proprio qua fuori ragazzi Conviene salire e provare a piccarli in attimo Perché secondo me posso fare un paio di kill carina No veramente sta sto coso dai Mamma mia Ok quello è un bot Mamma mia che brutta mira che ci ho avuto Ma si stanno fightando pure dentro la safe Là Bravo Mamma mia 5 veramente Oh a posto è andato Cavolo ragazzi è la nostra ultima partita In Fortnite capitolo 2 Dai devo vincerla È per una questione di orgoglio ragazzi Devo Sarebbe carino anche vincerla con un numero decente di kill Però mi è contento Ci stiamo andando a spostare vicino l'acqua No non troppo Ah no stiamo andando su questa zona con i tunnel Maro che casino qua Attenzione c'è qualcuno che ci sta passando Sì Scappa bro che ti conviene Guarda ti conviene proprio Ok sto dizio mi ha ignorato Fortunatamente E questo conoscendo la mia posizione sta in un enorme vantaggio Voglio andarmene ragazzi È troppo forte secondo me Non conviene Non mi ha inseguito Non mi ha inseguito Ottimo Ottimo Si stanno Si stanno fightando tra di loro lì Posso dare fastidio a qualcuno Potrei Per il momento non si sono ancora fightati Attenzione che ci sono i rilevatori Andata Jump Ottimo Mi conviene scappare Questa è una zona fighissima E qui concludere la nostra avventura qui su Fortnite capitolo 2 Ah ciao Vabbè Bella per te Perfetto Via 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 Questo a breve sarà un problema Devo assolutamente entrare in safe Ora Sono albero davanti però Faremo in modo che non sia un problema Un altro invece serio problema È che ho un tizio in testa Io quindi qua mi barrico Così pure se mi spara Sto a posto Mannaggia Tanto se deve passare Deve passare per forza per di qua regà Ok ottimo C'ho altri proiettili per questo coso Ok un'ottima notizia Ok la safe è di là Quindi se qualcosa mi devo teletraspettare Mannaggia Ma sgamato Fatto la cavolata Mamma mia Ho sopravvissuto per miracolo Eliminato Si gode Vabbè siamo io sto tipo Ok Prova di non farmi cadere Come ha fatto col mio compare Sto finendo i materiali però eh Ma è morto Raga è morto C'è in fin di vita Cavolo Mi sa che l'ho fatto curare Godo Ragazzi vinta Ultima vittoria Di Fortnite Capitolo 2 Fatta Non ci credo A questo punto ragazzi Non posso fare altro che Ricordarvi che stasera Alle 21.30 Saremo live sul mio canale Twitch Per guardare assieme L'evento finale Di Fortnite capitolo 2 Vi ricordo di lasciare un like Iscrivervi al canale Ma soprattutto attivare la campanellina E noi boys Ci becchiamo stasera Non posso ancora crederci No posso fare altro che No posso fare altro che No posso fare altro che No posso fare altro che